La violenza sulle donne è un problema strutturale, una grave violazione dei diritti umani che coinvolge migliaia di donne e talvolta anche le loro famiglie. Con l'emergenza Covid e con le visure restrittive, molte donne sono state costrette a vivere in casa per mesi con i loro aguzzini. I carnetti ci agiscono col favore del silenzio, noi invece dobbiamo alzare la voce e dire basta, basta la violenza e basta ad una cultura misogina e sessista. Le donne devono sapere che non sono sole, che verranno aiutate e soprattutto che quello che succede non è colpa loro.